In questo libro si parla di tre donne, tre epoche diverse, tre basilicate, tre sud diversi, ma che sud emerge? Emerge un sud stratificato che cerca di sviscerare il concetto che la Lucania fosse il sud di tutti i sud. Mi aveva incuriosito questa espressione che derivava da appunti di Ernesto De Martino e quindi, dato che è un romanzo che parla anche di ecologia, di proiezioni sul futuro, era interessante proprio utilizzare queste tre epoche quasi come dei frattali, in qualche modo, che si specchiano l'uno nell'altro per cercare di rintracciare delle costanti del territorio e invece delle fratture, diciamo, delle feritoie in cui si inseriscono nuove possibilità di meraviglia. Questo è il sud che racconto. Ecco, diciamo un po' ai nostri telespettatori, chi è Claudia Durastranti? Sono una migrante, nel senso che sono un'autrice che basa molto del proprio lavoro su quest'idea di straniamento. Io sono arrivata in Basilicata a sei anni, da una famiglia lucana emigrata negli Stati Uniti e da quel momento in poi la mia prima ispirazione di scrittura, poi da traduttrice, si basa costantemente su questo attraversamento dei mondi, diciamo. E al momento, con questo romanzo, invece, mi interessava approfondire proprio il rapporto fra magia e tecnologia. Scrittrice, ma anche appassionata di musica, perché cura una rubrica musicale su Internazionale. Di che cosa si occupa in particolare? Proprio, in qualche modo, per sfidare la mia formazione di persona che ha ascoltato tantissima musica americana su Internazionale, mi occupo essenzialmente di band emergenti italiane ed è per me un vero e proprio apprendistato, perché appunto la mia formazione sentimentale musicale è più legata alle chitarre da cameretta ed è un viaggio di scoperta e trovo che sia interessante nella misura in cui è un'influenza. Cerco di raccontare su Internazionale, soprattutto band che si occupano di reinventare la lingua o di avere commissioni tra una dimensione ancestrale, melodica, tradizionale, delle incursioni più sperimentali ed avanguardia. Quando entrerà la musica nella stesura di un suo romanzo? C'è sempre la musica perché scrivo veramente leggendo ad alta voce, cercando o meglio. Prima, nei miei primi romanzi, la musica era proprio un riferimento. Potevo citare i Velvet Underground, i Joy Division, quel band che amavo moltissimo. Invece adesso è diventata incorporata nel testo. In qualche modo penso che i miei libri abbiano un ritmo, che può essere appunto musica ambiente o elettronica. Sono passata dal citare le canzoni a cercare di diventare una canzone. Grazie a tutti!